1 La partita ce l'ha messo 8 anni a iniziare Ti tiro un MIG Di qua va Hai tirato un MIG Bello Raga ma se siamo tutti al centro Arriva Genos, arriva Genos Arriva Voglio questa Ci curiamo a vicenda quei totem e tutto vai Li facciamo entrare Dammi in sinistra Tutti dentro Tutti dentro Ha 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 Che stai in fronte Ying, pazza Ying Ying è scesa Lander torna Andre Che c'è 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 ferma FK Sono morto Sono morto raga scusate Ho ruminato la streak Guarda la MIVA Lo vuole healing Nessero vuole Oh c'è 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 ferma Abbastanza Dobbbero essere molti di più Totem al centro Sento... Eh! Aspetta A blocco Nel momento di creval Sono stato fucilato Come poche persone Quella voglia di una trappa da mortale Allora ragazzi entra qua La fine è la fine La fine è la fine Wow Il legato che mostra tutti quanti al centro Blocca tutti in un punto specifico Ma ha un raggio breve E non prende attraverso i muri Sarta MIVA No Iling Né salire Sai quanto healing c'è qua dentro? Oh merda Il healing 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 Sparatela, sparatela Sai quale la cosa bella? Meeve con street justice Che basta uno di vita in più e non lo può più usare Beh Ah ah Ciao, nooo E' riuscito a usare lo scatto, sbiv Rega lì c'è skyver Eh 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 Tupin Qui ti metto mi sente? Prime mi sente? Certo Ho ultiato Colpiti lì! Oddio La nostra Eh Mi Eh vabbè Rampage Nooo Andrea che cazzo fai lì sotto? Eh c'è la Genos Lee che mi stava chiamando F*** No siamo rimasti in due tornati, tornate amici Non riesco a entrare Se Giorgi è andato, Giorgi è un uomo morto Forza, maybe E invece no! Nooo non voglio! Sky la blocco, sparatela 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 No Paura! Proteggimi! Skill Ciao Genos! No, è scappato Oddio mi sembra in tre Hanno rotto la formazione Viva, viva, viva! È bloccata Oh, porco Dio Sono morto Ragazza, rompe la formazione No, non è vero Scappata Seris Se mi porta che mi grabba a Genos Come cazzo entra voglio? Ah, così, va bene Oh, ho bloccato qualcuno Mi piazza otto totem ragazzi Non so cosa dire Blocco Seris Blocco Seris Com'è un stoppable? Ma com... Torvald, faccio un stoppable Con Torvi C'è Sky! C'è Sky! L'ho bloccata, l'ho bloccata Ma... Oddio, sei double! Double kill Ma? Oh, oh Meave, meave! Meave, entrata Risa, Risa Ma ha fatto con Street Justice E ho messo Even al due Al due Ero a nove kill consecutive Con Torvald Va bene Ora hanno healer È ovviamente a noi Io sono un lampione Io sono un po' d'aria Non mi è venuto Non mi è venuto spontaneo Usare l'R1 Merda Vale, è malissimo Aiù, 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 aiù Il healing, healing Io piazzo un totemino Che cura sempre un pochino Ma muori tu, troia di merda Guarda Lex che sta nell'angolino lezzo Mi picchiano, mi picchiano No, Ying Eh niente, Ying Stiamo in trailer Stiamo in trailer E non bastiamo Minchiamo ampicchiato Ehm Aiuto, aiuto Il healing, healing Uuuu Uuuu Non è caduto quel buffone No, no È lato abbastanza Fryer Impossible No Ho messo anche l'ingiovanimento Ma no Ma non ho messo salvato Vi dimersiamo in due 3 Sky è avanti a me Tutto Sky che mi picchia Sky mi picchia Non riesco a rientrare nella torre Miv, Miv, sparatela Vorrei rientrare nella torre ma muoio prima Buono amore Miv, che cazzo è Ma me che non ho Viene Mi piace questa Blocco Miv Siamo un po' vergognosi eh Ma mi piace sta cosa, va bene A me diverte però eh A me diverte Hashtag skill Sì mi diverte Oh, guarda chi c'è Grazie Qua ragazzi si arriva Groover figa Perché Groover qua correbbe un botto Io Stavo facendo Unstoppable Con Torvald In questa modalità Ho detto tutto Ho, ho detto Tutto Bella mi piace Bella, io così mi diverto su Palenzi Ma fa le cazzate è meglio Yup Ma sto qua ha finito la partita Top damage Top damage boys Top kill della partita sono Attenzione Sono l'unico che spara per la love figa secondo me Che vergogna di partita Dio Cristo Tontacinque mila di shitting Oh 100 mila Quasi 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 centomila di shitting Questa vergogna Ci sta Hanno quintato tutti De loro Inferno No Dai Miv ha fatto quattro diciannove Ma oh Ma veramente Guarda Certo Non potremmo entrare Hashtag skill Ying è riuscita comunque a fare schifo però Questa non Vabbè Perchè ho il telefono modalitario Dormi le cu Dormi le cu